Sono centinaia gli agricoltori, gli elevatori e i pastori terremotati della Cordiretti che hanno lasciato le proprie aziende per raggiungere il centro della capitale e offrire in piazza Santa Anastasia al circo massimo i propri prodotti nel più grande mercato delle specialità contadine sopravvissute al sisma che hanno sconvolto la vita e il lavoro di ampie zone delle regioni del centro Italia. Un'occasione spiega l'associazione per aiutare la lenta ripresa dei territori colpiti ma anche per fare un bilancio a tre anni dalle scosse dell'ottobre 2016 con la situazione attuale, gli interventi ancora attesi e le storie di chi con grande coraggio e dignità è rimasto a vivere e lavorare nelle campagne ferite. Grazie a tutti! Grazie a tutti!